Circa 60.000 fedeli hanno assistito alla Messa di Pasqua celebrata da Papa Francesco e alla successiva benedizione Urbi e Torbi dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro. Il Pontefice ha pregato ancora una volta per la pace nelle aree dilaniate dai conflitti, da Gaza all'Ucraina. Mentre invito al rispetto dei principi del diritto internazionale, auspico uno scambio generale di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina. Tutti per tutti. Parlando del Medio Oriente, il Papa ha chiesto che sia garantito l'accesso agli aiuti umanitari a Gaza, senza dimenticarsi di esortare per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas. La guerra ha terribili ripercussioni sulla popolazione civile, ha detto il Pontefice, e soprattutto sui bambini, che hanno dimenticato come si fa a sorridere.